Si ammette la sua foto nuda su Twitter e beffa chi sta cercando di vendere proprio quella foto ai suoi fan? Ha giocato d'anticipo la cantante, offrendo la sua foto nuda direttamente sui social network. E i fan applaudono.La cantante australiana ha anticipato così il tentativo di vendere una sua foto nuda. Pare che qualcuno stia tentando di vendere foto di me nuda ai miei fan. Risparmiate i vostri soldi, qui la potete vedere gratis. Ogni giorno è Natale ha scritto la star sul suo profilo Twitter. Subito sotto la foto di lei di schiena e completamente nuda, su una terrazza dove, sembra, stesse prendendo il sole punto come la cantante sia entrata in possesso di quella foto, chi gliela abbia segnalata o se sia stato proposto proprio a lei di comprare le immagini affinché non finissero in mano a stampa o pubblico, non è chiaro. In ogni caso la mossa dell'australiana, sempre molto attenta a difendere la sua privacy, beffa tutti. Nel post su Twitter, si legge ancora se concludi l'acquisto la foto diventerà più definita e potrai ricevere altre 14 immagini e un messaggio diretto ai potenziali acquirenti dello scatto che quindi potrebbe non essere l'unico. Punto ora ti amiamo ancora di più, sei eccezionale, sei un'icona, brava che non ti fai spaventare scrivono tra i commenti i suoi fan. E con la pubblicazione della foto, si attrova anche il modo di pubblicizzare anche il suo nuovo album in uscita. Ogni giorno è Natale scrive a chiusura del post sul sito di microblogging. Un riferimento al lavoro in uscita il 17 novembre esattamente tra dieci giorni, la cantante australiana darà il via alle vendite dell'album. Insomma, un vero e proprio autogol per chi cercava di beffarla con la vendita delle sue foto nude e un veicolo pubblicitario per la star.